È bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Scontro diretto per un posto in Europa Liga Marassi. Sampdoria con due punti in più e una partita in meno, chiamata a ritrovare slancio. Un solo successo nelle ultime sette gare. Umore opposto per la Fiorentina, che non perde da inizio novembre. Ramirez, angolo battuto sul secondo palo per Quagliarella. Poi arriva Kovnatsky. Intervento miracoloso di Sportiello. David Kovnatsky, preferito a Duvan Zapata, sbatte su Marco Sportiello da urlo. Triangolo mobile della Sampdoria sulla destra. Ramirez, cross per Quagliarella. L'aggancio stupendo. Quagliarella, Quagliarella! La Fiorentina patisce le assenze di Terro, Veretout e Astori. Ne approfitta Quagliarella, che eguaglia il suo record di gol in una singola stagione. E lo show del blu cerchiato è tutt'altro che concluso. La palla ancora per Ramirez. Avanzo Uruguayano. Dentro per Quagliarella. Quagliarella con il destro! E arriva la doppietta di Fabio Quagliarella. Sampdoria 2. Fiorentina 0. Il quattordicesimo centro di questo campionato di Quagliarella. Fraet. Dentro per Ramirez. Ancora Quagliarella. Palla sul destro! E arriva l'altriflette di Quagliarella. Quagliarella cala il tris e trascina la Sampdoria. La rete di Carlos Sanchez serve solo a edulcorare la pillola per i viola respinti proprio quando intravedevano da vicino in perimetro europeo. Grazie a tutti!